ciao bentornato sul canale benvenuti a serie car of the day questa la lamborghini week oggi abbiamo una lamborghini centenaio roadster della serie hot wheels roadsters questa in rosso una lamborghini del 2016 e andiamo a vedere in che anno l'hanno proposta nel 2020 infatti da un po che ce l'abbiamo lì forse avevamo già aperta anche un'altra versione adesso ne abbiamo talmente tante faremo poi uno speciale lamborghini con tutte le lamborghini che abbiamo ma non uno speciale una una lamborghini week ma proprio uno speciale un video con un po tutti i modelli di lamborghini che abbiamo perché ne abbiamo veramente tanti anche perché meno male la lamborghini non ha diciamo allevato la licenza la mattel come l'ha fatto la ferrari quindi continuano a farle aggiornare andiamo aprire questa centenario eccola qua andiamo a zoomare ecco un bel rosso un rosso più un rosso ferrari che un rosso lamborghini eccola qua sembra guardate un po che modello che è bella cosa ne dite è anche tutta ben definita perché ha tutti i particolari disegnati cioè i fanali loghino fanali anteriore e la fanalleria posteriore che sono fanali a led col marchio lamborghini bene bene proprio un bel modello questa è un 2016 proposto nel 2018 è fatto in l'esercizio in rosso adesso di queste qua non so quali versioni o ben sembra di averne delle altre poi finalmente dopo aver visto diciamo un paio di modelli che rappresentano sì il marchio lamborghini ma non sono le classiche lamborghini che conosciamo noi siamo tornati alla classica sportiva eccola qua un po strana un po goffa nel posteriore non un po lunga mi sembra però probabilmente è così un po lunga dal dal passo della ruota al acqua dietro insomma lunghissima però sicuramente è la macchina insomma il modello che è fatto così un po lungo va bene quindi lamborghini centenari guardate che bella che avercela in queste giornate calde andare a farsi un bel giro con questa macchina nella riviera e cosa ne pensate ci vuoi un bel po di benzina è un bel po di soli di benzina però vabbè importante è godersi la bella vita come si diceva la dolce vita cioè dolce vita ecco con una bella lamborghini possiamo dire che è sì una dolce vita eccola qua vediamo un po meglio questa quindi la settimana dedicata alle lamborghini se vi siete persi i video andate lungo il canale perché ci sono tutti gli altri video domani invece facciamo un altro modello e poi sabato invece qualcosa di speciale è una cosa speciale quindi questa è la lamborghini centenario rolster del 2016 ce l'avete voi uscita nel la mattella proposta come hot wheels nel 2020 e quindi magari se non ce l'avete forse può darsi che riuscite a trovarla ancora da qualche parte se andate nei vari toy center l'altra volta sono andato in un toy center c'eravano le macchinine del 2019 2020 lì per lì mi sono un po incazzato ma guardate sono ancora indietro proprio detto ma quasi quasi cerchiamo se c'è qualcosa che mi manca di quegli anni lì non ho trovato niente ce l'avevo tutte a parte le fantasy ce l'avevo tutte quindi non mi è stato utile però a volte capita che magari vai in un negozio trovi vecchi modelli e magari trovi il modello che ti mancava quindi questa è la borghini rolster del prodotto nel 2020 come hot wheels ovviamente l'ha fatta uscire nel 2021 2020 2021 e ne avevo delle altre adesso chissà l'ha fatta anche la proposta anche la maggiorete sapete che c'è questa un po di competizione tra hot wheels e maggiorete e come sapete io ho un po ce l'ho un po con la maggiorete per le ruote che fa se quegli utenti se qualcuno della maggiorete mi ascolta cambiate le ruote perché fanno veramente fanno veramente pena le vostre ruote fanno pena invece queste sono più robuste da giocare effettivamente va bene questa la metti su una pista effettivamente ha le sue prestazioni eh alle sue prestazioni niente dai questa è la lamborghini rolster la centenario rolster ci vediamo domani con un nuovo modello e poi sabato non parlate dei video di sabato perché c'è un modello che ho appena trovato e ho fatto i salti di gioia quando l'ho trovato e lo confrontiamo poi con altre versioni sia con un id sia con una matchbox degli anni 70 ci vediamo quindi domani con un nuovo video e se non lo avete ancora fatto iscriviti al canale lasciate un commento e suonate la campanellina ciao a tutti ciao 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 ciao